Prego. Grazie. Buonasera. 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 Siamo i coniugi De Rossi e stavamo cercando una sistemazione per Lola. Sa, io e mio marito le abbiamo voluto avere una figlia, solo che ora abbiamo un bambino vero e purtroppo non abbiamo più il tempo di occuparci di lei. Ma lei e suo marito avete già intenzione di avere altri figli? Beh, volevamo averne almeno due. Bene. E avete già pensato come trovare una casa per il primo bambino quando arriverà il secondo? E avete già pensato come trovare una casa per il primo bambino quando arriverà il secondo?